È molto importante approfondire queste tematiche, approfondire queste patologie perché ne vale la parità della vita di molte donne e c'è un impegno dei professionisti, degli oncologi, ma di tutta un'equipe professionale che si muove in quest'ambito. L'ordine è presente perché vuole sottolineare questo aspetto etico, questo aspetto deontologico, relazionale e professionale che fa la differenza in un mondo civile da un mondo non civile, da un mondo democratico o da un mondo non democratico. La medicina apporta qualità di vita e quindi apporta le possibilità ai cittadini di migliorare le loro relazioni. Siamo qui proprio per sottolineare questo aspetto che è fondamentale.